Il punto sulla criminalità a potenza e provincia è stato fatto questa mattina in prefettura nel corso della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica. Tutti i dati nel servizio di Francesco Perugini. La movida in centro città e i furti nelle contrade, questi temi sul tavolo del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Il prefetto ha presentato a componenti delle forze dell'ordine, amministratori e rappresentanti dei cittadini, i dati sull'andamento della criminalità a potenza e provincia. Nel 2022 i delitti sono calati di circa il 20% nel confronto con il 2019, preso come periodo di riferimento prima della pandemia. Andamento simile nel solo capoluogo dove il calo è proseguito, anche se più lentamente, negli ultimi 12 mesi che hanno visto una stretta nella rotta alla movida e non solo. L'ultimo dato che va in questa direzione è anche il netto miglioramento del rapporto tra delitti consumati e delitti scoperti. Che è passato da 2.8 del 2019 a 2.65 del 2022. Unica nota stonata sono i furti, in particolare nelle zone più lontane dal centro città. In risalita negli ultimi due anni in tutta la provincia dopo il record negativo del 2020, con le persone chiuse in casa per il lockdown. Nel territorio di Potenza la risalita è arrivata solo nell'ultimo anno, dopo un 2021 stabile. Sono già 22 i colpi messi a segno al gennaio di quest'anno, un dato comunque ancora lontano dai 41 del 2019. Ciclicamente nella nostra città e soprattutto nelle contrade, nelle zone rurali della nostra città, si verificano dei furti. Per questo motivo già da tempo abbiamo immaginato l'installazione di nuove telecamere e se oggi siamo in procinto di installarle è perché da due anni stiamo lavorando a questo progetto, al reperimento dei fondi. Grazie a tutti.